Mi chiamo Marsha Josephine de Salvatore. Ma Marsha, perché non hai un husband? You are so complicata. Bella, che ti preparo? M'ha chiamato Bella. Dobbiamo tornare in Calabria. Ah signora, non c'è niente da fare, perché tanto la bambina sarà morta a 18 anni. Quando avevo 18 anni, volevo chiamare quel medico e dire Hello! Ma Marsha, nessuno deve sapere il nostro business, però dentro di me i segreti mi facevano soffrire. O quando chiamano DM55. È come se fosse che ho vinto la lotteria di Imoglobina. Io ho la Thalasse Mia Meyer, anche chiamata l'anemia mediterranea. I segreti non sono positivi e non possono cambiare la situazione. Non è un gioco da sluts, un gioco a cavalli. È la mia vita. Certo sento ogni tanto, ho paura dei aghi. Aham, il tatuaggio della Roma sul braccio? Ti ha fatto male? No! La donazione del sangue è fondamentale perché ogni anno la mancanza cresce. Eh, lo sai che vi dico? Cioè il mio vicino stava morito. Io volevo una giornata perché quando vai a donare gli danno una giornata libera dal lavoro. Mi sono trasferita a Roma, ho fatto un brindisi a un matrimonio gay, ho parlato a un'università americana e ho iniziato l'unico spettacolo comico in inglese a Roma perché qualcuno mi ha donato il sangue. Vi ringrazio.